Ho imparato che la natura e le altre cose vanno rispettate, che è bello perché si imparano tante cose, impariamo delle cose sul risparmio, impariamo che la natura viene rispettata e anche quando vediamo qualcuno in difficoltà lo dobbiamo aiutare, non ci devono escludere le persone. I volontari sono delle persone che aiutano gratuitamente per i bambini, per la natura e fanno tutto questo collaborare. Grazie per la visione!